Assessore, possiamo dire che questa ripartenza della Fano dei Cesi in Fano Fortune vi trova particolarmente soddisfatti? Soddisfatti perché dato il poco tempo a disposizione va fatto il ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati anche come la città ha recepito queste indicazioni di un programma anche nuovo, anche nuovo perché molte cose sono state ripescate e reinventate ma altre che sono proprio nuove, mi riferisco anche alle performance artistiche che le Fazioni hanno messo in campo e che dimostrano una città molto viva di associazioni e di scuole, scuole di danza, di canto, di recitazione che hanno messo al servizio della manifestazione delle performance molto belle, molto interessanti quindi la sfida non solo delle bighe che è una parata rievocativa ma anche quella proprio dell'orgoglio delle Fazioni per mostrare il tema che era stato dato nel modo migliore, quindi la scenografia, la coreografia abbiamo visto veramente delle belle cose, poi la grandissima partecipazione popolare sfilate eccezionali nella giornata conclusiva, la ricerca dei costumi che non sono più banali come a volte nelle prime ore si vedevano, un'attenzione, una cura, nelle acconciature abbiamo visto il rievocare anche nomi fanesi più che generici della romanità insieme poi alle conferenze culturali alle visite guidate, proposte di menu particolari, quindi abbiamo visto una città che su questo progetto si stringe scoprendo davvero le radici che ci sono perché a Fanno c'è poco da inventare abbiamo tanto di quel tessuto antico e romano che la classicità per noi è un punto di riferimento però molta creatività anche, quindi questo ci è piaciuto e ci dà buone prerogative per il futuro